Davide, domenica di riposo, visto che il calendario ci assegna l'ultima giornata d'andata e poi di ritorno come riposo, gran bel bilancio comunque a conclusione di queste prime 12 partite. Sì, sì, assolutamente, questo ultimo turno di riposo magari visto all'inizio poteva sembrare un po' bruttino perché dici, restiamo a aspettare gli ultimi risultati, magari ci condannano, invece aspetteremo seduti già al banco dei quarti di Coppa Italia che per noi è un risultato eccezionale, ma senza mai perdere l'obiettivo finale che deve essere, finché non si conquista, deve essere la salvezza. Di certo molta gente non ha centrato, no c'è la questione che tutte le partite erano state messe il 25, si sono mossi, non so chi si è mosso e sono state rimesse tutte le 26, solo noi siamo rimasti a giocare il 25, quindi al di là di quello che può essere il credo cattolico, il sentimentalismo o i valori di famiglia a Natale, di certo secondo me è una disparità che Ravenna subisce. Il mio intento non è stato mai quello di fare polemica, ma mi sono trovato a essere, quando si dice che la mia protesta è stata solitaria è perché siamo gli soli a giocare il 25, quindi comunque capitolo chiuso noi andremo il 25 a Trento, partendo il 24, di certo non è la migliore delle situazioni ma ci si adatta.